Ripartire dal turismo valorizzando al meglio il nostro mare, la nostra storia, le bellezze archeologiche e l'enogastronomia. L'estate della ripartenza con la campagna vaccinale sullo sfondo inizia nel migliore dei modi. Tante le prenotazioni da parte di stranieri che tornano in Campania, ma anche di tanti cittadini che prediligeranno le nostre coste per le loro vacanze. I campi flegrei con la loro storia saranno una delle mete più ambite. Ed è qui che l'imprenditore Marco Criscitiello ha deciso di allargare il suo franchising realizzando una proposta gastronomica di cucina e pizza che strizza l'occhio proprio ai turisti. Nasce così nella nuova location di Miseno una scuola di pizza e cucina, rivolta soprattutto a coloro che villeggeranno in zona, ma anche a chi farà del turismo mordi e fuggi. Cosa c'è di meglio che godersi una giornata di mare per poi partecipare nel pomeriggio a veri e propri stage e corsi di pizza. A tenere il corso sarà Angelo Ranieri, appartenente a una delle storiche famiglie della ristorazione della gastronomia partenopea, campione mondiale di pizza di stagione nel 2017, che per questa estate proporrà una pizza napoletana a base di cozze e provolone del Monaco. Allora, la mozzarella di bufale e i pomodorini gialli è la pizza che sta andando più forte. Oggi presenteremo anche una pizza nuova, che è fior di latte, cozze, zucchine e provolone del Monaco. Quali sono le difficoltà maggiori che può incontrare un turista, un cittadino che viene qui a fare questo corso? Difficoltà non ce ne stanno, basta la voglia e la volontà, a parte che è sempre un divertimento a fare la pizza. Allora invitiamo tutti ad andare prima da mare e poi fare un pomeriggio con noi a fare la scuola pizza e poi rimanere a cena per stagiare il nostro impasto, la nostra pizza. Ma in cosa consisterà il corso e come si svolgerà? Ce lo spiega Lino Ranieri. Possono benissimo andare a mare, godersi la giornata di mare, fare un aperitivo sulla spiaggia, dopodiché possono recarsi all'interno della struttura e iniziare questa esperienza. facciamo vedere come si impasta, con quanti ingredienti, quali ingredienti e dopodiché iniziamo con la stesura della pizza, il condimento, la cottura e se la mangiano. Bisogna prenotarsi telefonicamente o attraverso il sito e il costo di partenza è di 35 euro.